Al Movicentro di Viale Roma a Venaria è stato inaugurato il primo Bike Box della Città Reale, alla presenza del Sindaco Fabio Giulivi, del Consigliere Metropolitano Delegato alla Pianificazione Territoriale, Difesa del Suolo, Trasporti e Protezione Civile Pasquale Mazza, della Consigliera Metropolitana Rossana Schillaci e dell'Assessore Comunale ai Lavori Pubblici e Ambiente Giuseppe Di Bella. Il Bike Box mette a disposizione sei spazi, ognuno dei quali può contenere due biciclette. È realizzato nell'ambito del progetto parcheggi di interscambio per la mobilità ciclabile. È costato 10.800 euro, finanziati dalla città metropolitana di Torino. I Bike Box possono essere utilizzati liberamente senza costi e chiusi mediante un lucchetto personale, per consentire ai cittadini di comunicare con l'amministrazione comunale e inoltre è disponibile un QR code da scansionare con lo smartphone, per compilare un formulario online che raccoglie opinioni, suggerimenti, segnalazioni in merito al nuovo servizio. Il movicentro di Venaria sarà completamento operativo nel 2023, quando la linea ferroviaria Torino-Ceres tornerà ad essere pienamente fruibile. Sindaco, questa ferrovia è un po' un cordone umbilicale con Torino per Venaria. Sarà sempre più importante e sempre più strategica nei prossimi anni per la vostra comunità? Sì, è un'opera che aspettavamo da anni, consentirà quel collegamento rapido con Torino-Portasuse, quindi col sistema della metropolitana e col sistema anche dell'alta velocità, ma così come consentirà il collegamento di Venaria con le Valle di Lanzo e soprattutto con l'aeroporto di Caselle. Venaria ha due stazioni, questa del centro storico che collega il centro città e soprattutto la reggia, al sistema ferroviario anche del Basso Piemonte, e la stazione Rigola per quanto riguarda lo stadio della Juventus e quindi il flusso dei tifosi. Quindi finalmente ci sarà quel collegamento che attendavamo e che consentirà di avere uno strumento di mobilità alternativa all'auto per venire a frequentare Venaria, non solo dal punto di vista culturale con la soreggia, ma anche dal punto di vista, per quanto riguarda appunto lo sport e quindi l'attività della Juventus Stadium, ma anche dal punto di vista lavorativo, universitario, ho tenuto conto anche della presenza del centro di conservazione e del restauro e dell'altissimo numero di studenti universitari che Venaria ha, 1200. Consigliere Mazza, questi bike box sono un piccolo tassello però di una politica di promozione del trasporto pubblico e sostenibile che sta partendo e sta partendo con la collaborazione con tanti comuni? Sì, assolutamente sì, è una prima inaugurazione, il primo bike box di una lunga serie, non solo nella cintura di Torino, non solo nella città di Torino, ma anche in comuni un po' più periferici, proprio per sostenere una modalità di movimento diversa, più ecologica, anche più economica, se vogliamo, visto i tempi che corrono. Questo all'interno del piano urbano della mobilità sostenibile che andremo ad esaminare in terza commissione il giorno 28 e che successivamente sarà portato in consiglio di città metropolitana. È un piano che guarda a 360 gradi sia per quanto riguarda la mobilità, ma anche per quanto riguarda la sostenibilità economica e soprattutto per quanto riguarda anche la sostenibilità ambientale. Siamo mobility manager di tutta l'area metropolitana, per cui coordiniamo. Ad oggi ben 86 comuni hanno già dato adesione alla città metropolitana come mobility manager di area, per cui stiamo lavorando a 360 gradi, a tutto tondo.